domani 8 giugno del 2020 è un'udienza importantissima l'ennesima per la mia vita non è un processo è un'udienza in cassazione a porte chiuse si decide se devo rifarmi 9 mesi che ho già fatto di pena tra una cosa un'altra senza entrare nel merito delle sentenze ho fatto più di sei anni di valere a tre sbarre un anno di comunità e sono in balla dal 2007 14 anni della mia vita in questo momento sono gli arresti domiciliari rispetto tutte le regole ma lotto affinché mi venga riconosciuto ma sempre ciò che è giusto ciò che credo sia giusto per me